resiliente il DAX lo definirei così in questi giorni siamo sempre all'interno del rettangolo che abbiamo tracciato ieri che in pratica coincide con la candela di apertura del giorno 11 agosto vedete come l'individuazione anche dei livelli di supporto è importante nel senso che è da tempo che diciamo 12.8-12.7 guarda caso questa fascia qui ogni volta immaginatela come un grande cuscinone in cui ogni volta tentano i venditori di affondare e qui vengono respinti verso l'alto anche oggi è successa la stessa cosa quella dove mi trovo adesso è la candela delle 9 che a un certo punto era una candela nera che era arrivata fino al minimo a 12.740 poi rimbalzo verso l'alto e siamo ritornati all'interno del rettangolo che avevamo tracciato ieri i venditori ce l'ha messa tutta oggi perché questo è il DMI- è stato un bello sforzo quello di premere verso il basso per cercare di rompere i supporti e ancora una volta il tentativo è fallito questa è la quarta volta negli ultimi dieci giorni quindi situazione fondamentalmente invariata la buona notizia appunto è quella che ho appena detto che i supporti continuano a mostrarsi resistenti poi in serata l'America è andata abbastanza bene quindi anche il future sul DAX si è ripreso vedremo domani avevo detto attenzione ai gap vedete che oggi tra l'altro il tentativo è stato fatto in grande stile di rompere perché un'apertura gap con fuga verso il basso avrebbe davvero potuto provocare un'accelerazione al ribasso invece non c'è stata il Futsimib leggermente più debole comunque ecco come dicevo tante volte i supporti di resistenza e non prendiamoli al TIC perché non funziona così area 19.9 significa che come ha fatto oggi il Futsimib può anche slittare un attimo verso il basso verso 19.750-19.8 siamo ancora lì ecco io direi vorrei vedere salvo questo gap che è stato aperto proprio l'11 agosto e per il momento diciamo il Futsimib riesce a rimanere al di sopra di quel livello oggi è stata una giornata critica per il petrolio perché a un certo punto perdeva il 3% anche qui ci sono vedete qui avevamo tracciato questi minimi crescenti che davano l'idea di prezzi sostenuti e in effetti è così cioè al di sotto di certi livelli intervengono evidentemente mani forti che non vogliono per il momento far calare il prezzo del petrolio non viene neanche spinto perché comunque rimane tranquillo nel suo range ormai sono tanti giorni che fra 42 e 43 però anche qui questo è quello che è successo oggi comunque significativo perché nel giro di 4 ore si è ribaltata una situazione che sembrava essere molto pesante a proposito di petrolio un amico mi chiedeva di Eni io passerei a questo punto al grafico giornaliero per far vedere come Eni rimane comunque schiacciata lì verso il basso c'è stato questo è il sell off del 30 di luglio che ha rotto i supporti della volatility stop line in area 8 e 3 e sono stati ritestati vedete con questo ABC verso l'alto ritestato il giorno 12 agosto fino a 8 e 4 questo è un movimento contro il trend principale che ci stava perché normalmente nel scambio di ruolo i vecchi supporti diventano poi resistenze ha funzionato perfettamente su Eni che ha ripreso a slittare verso il basso siamo a 7 e 9 non vedo niente di particolare non mi è piaciuta per niente la rottura verso il basso del 30 luglio che fino a questo momento resta confermata anche per Eni ci sono supporti molto forti in area 7 vedete come qui il tentativo del 3 scusate il tentativo sì del 3 agosto non è riuscito neanche ad avvicinarsi all'area 6 e 9 7 e 1 diciamo 7 e quindi niente questo è il riferimento da tenere d'occhio per evitare ribassi ancora più pesanti ma fondamentalmente Eni non va da nessuna parte siamo ancora sui livelli del 24 marzo ecco direi che con questo diciamo tutto siamo praticamente 5 mesi fermi un amico mi chiedeva anche di Biper non è un discorso molto diverso è come leggere questo grafico io lo leggerei in maniera molto semplice cioè basta vedere dove siamo oggi il 2 3 e dove eravamo il 13 di marzo ecco se pensiamo che ci sono indici che dal 13 di marzo sono tornati a rivedere i valori di febbraio e Biper è ancora qui teniamo anche presente che questi erano livelli di panico questo era panic selling guardate le escursioni che c'erano vi ricorderete la volatilità a 60 quindi il fatto che Biper il 19 agosto sia ancora sui livelli di panico non è un segnale che in questo momento mi fa mi fa intravedere chissà che cosa se ci dovessero essere novità per il momento il modo tecnico di leggere i grafici è vedere la lunghezza delle leg vedete la gamba al ribasso che lunghezza vedete la gamba al rialzo molto più corta anche in durata temporale quindi i rialzi sono sempre un ABC con lenti drift verso l'alto ci aveva dato soltanto a maggio ma questo era in concomitanza con la salita di tutto il mercato vi ricordate che ha portato al massimo relativo del 9 giugno che è il 13 e 3 del DAX quindi qui c'è stato un tentativo di allungo ma subito appunto ricompensato da gambe al ribasso più lunghe e in questo caso più profonde basta vedere qui guardate come è stata prolungata questa quindi è un titolo che in questi mesi ha continuato secondo me una figura tecnica di distribuzione cioè di uscita di investitori che dopo il rimbalzo durato molto poco pochi giorni poi in realtà hanno lentamente continuato a scaricare i titoli questo fino ad oggi questo è quello che si vede fino ad oggi quello che accadrà da domani non lo sappiamo ecco perché mettiamo sempre dei livelli che ci possano dire i compratori per il momento per tornare ci devono far vedere aggressività aggressività significa livelli più elevati di EDMI plus che devono arrivare a livello di 50 cioè cominciare a vedere segnali bullish importanti abbiamo la media 200 che scende quindi questo è il modo in cui si fa l'analisi di un titolo che in questo momento è sicuramente per chi vuole essere rialzista trascurato non c'è motivo non c'è motivo di considerarlo soprattutto se ci sono alternative più interessanti va bene direi che è tutto per oggi ci aggiorniamo a domani venerdì finire di settimana vediamo come chiuderà questa settimana di metà agosto che comunque è una settimana di volumi leggeri ma non di meno negli anni passati l'esperienza è sempre stata che il mese di agosto anche se è un mese apparentemente trascurato dal punto di vista degli investitori istituzionali perché essendo un mese di ferie e quant'altro comunque è sempre un mese che ha rivelato poi dei comportamenti abbastanza dinamici quindi non mai prendere sotto gamba ai periodi di volumi leggeri comunque vediamo domani il finire di settimana se avete commenti lasciatemi di pure di sotto e per il resto vi auguro buona serata e grazie dell'attenzione grazie a tutti